Ciao a tutti ragazzi e buoni in questo nuovo video Oggi dovremo andare a prendere cavallo Vi farò vedere Come mettere il morso e tutta la roba da cavallo Allora raga Questa è la mia cavalla Prima di tutto dobbiamo mettergli La piglia Allora La piglia Si mette Guardate raga Questa è la mia cavalla Questa è la mia cavalla Questa è il mio morso La prima Sotto Una sotto Poi sopra Questa è brava che si appassa Questa è l'aceto di ebro Questa qua Dovamo tirare anche la parte Questa è la mia cavalla 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 e poi andremo giù e poi andremo giù